Musica Più della metà dei giovani italiani immagina per sé un futuro da imprenditore. È quanto emerge da un'indagine condotta da GFK e Urisco per Amway su un campione rappresentativo di circa 18.000 persone in 16 paesi europei. Oltre l'82% si dichiara favorevole all'autoimprenditorialità e il 61% si vede capace di diventare imprenditore di se stesso. E questo è un dato più alto rispetto alla media europea che si attesta attorno al 78%. L'analisi traccia il profilo di un'Italia che sta cambiando. I giovani che alla certezza di un posto fisso preferiscono un'idea di impresa sono sempre di più. Tuttavia la paura di fallire unitamente alla mancanza di un capitale iniziale sembrano ridurre l'entusiasmo anche ai più ottimisti. In questo senso molti tentano la via della vendita diretta che consente una gestione del lavoro in ampia autonomia. Questo concetto si riflette anche in Amway tant'è che il numero di giovani che hanno iniziato questa attività è aumentato negli ultimi tre anni raggiungendo circa il 35% della nostra forza vendita. Amway è un colosso della vendita diretta nata nel 1959 negli Stati Uniti aperto filiali in 80 paesi del mondo. La rete italiana distribuisce oltre 450 prodotti di consumo attraverso più di 28.000 venditori. La caratteristica è persone giovani di spirito, intraprendenti e desiderose di prendere in mano il proprio destino lavorativo. Le fasce di età sono tutte ben rappresentate, quindi i nostri incaricati hanno da un'età media dei 18 ai 65, 70 anni, quindi ognuno si ritaglia l'attività nel modo in cui preferisce.